I carabinieri hanno denunciato un gabonese di 27 anni senza fissa dimora e arrestato una coppia di italiani di 46 e 53 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'arma, impegnati in un servizio di controllo allo spaccio di droga su tutta la provincia di Torino, hanno fermato il gabonese e ritenuto un pusher itinerante che contattava i clienti sulla linea 5 GTT da Orbassano a Torino. I carabinieri della stazione di Orbassano si sono finti passeggeri e hanno pedinato sospetto sono saliti sul bus dietro di lui. L'africano alle fermate scendeva dal mezzo per parlare con i potenziali clienti in attesa per poi risalire da solo mentre i suoi interlocutori andavano via. Giunto al capolinea di Orbassano l'uomo è stato controllato dai carabinieri e denunciato. I militari della stazione Trofarello invece durante i servizi e controlli anti-covid hanno notato lo strano comportamento di alcune persone a bordo di due auto parcheggiate vicine. In uno c'era un uomo e una donna e nell'altro un giovane. La donna ha cercato di consegnare qualcosa al conducente dell'altra macchina ma alla vista dei carabinieri ha ritirato la mano. I militari sono intervenuti e hanno recuperato la dose di cocaina ancora nel palmo della mano della donna. La perquisizione ha permesso di trovare in una borsetta 20 dosi di cocaina che sembravano caramelle pronte per lo spaccio. A casa della coppia hanno trovato 350 grammi di droga tra cocaina e hashish. 400 euro e tutto il kit per il confezionamento. Le dosi sembravano caramelle per ingannare i carabinieri durante i controlli. I due spacciatori sono stati arrestati e la loro auto è stata sequestrata.